Ci sembra un reality show dell'orrore Tipo Ma veramente Eric, toh, 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 piglia Dai Non la prendi Che malcagato Chi sei? Buonasera, chi sei? Da dove chiami? Ma buonasera, buonasera Sei sulle balle E' inevitabile, è inevitabile Allora, io voglio salutare Voglio dire da dove vengo E tu non mi fai neanche finire Ancora prima, chi di entrare si sentiva a te Che ragagliavi come Magalli nei suoi giorni peggiori Anna Ma è morta Anna 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 Allora, entriamo dentro, riunione di emergenza Molto veloce E poi ci mettiamo all'opera Oggi, immagino che potremmo mettere in galera la rapidrice Potrebbe essere il giorno giusto, me lo sento Ma riusciamo ad acchiapparla adesso che sei Unita al coso lì Al fastidioso spugnoso di nuovo Ascolta Tu, già Ogni tanto ti muti per tossire Almeno quando parli Puoi dire cose sensate Dai Abbiamo trappolato la rapidrice Ma ieri Sotto l'occhio Molto poco attento di paga La rapidrice non si è vero Sotto l'occhio